Ed eccomi qua, quella lassù è Punta Grifone, facendo il giro si vede tutto qui dalla Lonella, la Granduia, il Rocciamelone, lassù proprio in alto in alto, dietro, vieni giù fino alla Roccapataneua, poi giro, c'è un po' di arietta qua, c'è tutta la cresta qua, di Punta Sbarò, che dovrebbe essere 2224 se ricordo bene, e no, è 23, 2223, e va bene, Punta Sbarò, adesso scenderò giù dritto di qua, provando, sarà dura, volevo provare ad andare fino al Colombardo ma ci sono dei passaggi che sono difficili perché ha slavinato qua dietro e sarà ben ben difficile passare, capperi, non si può, e quindi troverò una via alternativa oppure, oppure non so, non so proprio, adesso vedo come fare, lì c'è la tomba di Matolda, sì, 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 vedrò come studiarla adesso, bene.